Vaccini, la grande sfida ora è quella di recuperare il ritardo accumulato, soprattutto per i più anziani, alle richieste dei consiglieri rispondono direttamente in aula l'assessore alla sanità e lo stesso presidente Gianni garantisce che a più di 80 anni sarà vaccinato entro il 25 aprile. Al via, dopo qualche tentennamento, la scuola di formazione politica e istituzionale è nata con una legge del 2020, partirà dopo l'estate, a larga maggioranza ora viene approvato lo statuto. Via libera anche al bilancio di IRPET, l'istituto regionale di studi e statistica su economia e sociale, anche i conti dell'AM e quelli di ARTI, l'agenzia per l'impiego, ricevono l'ok dalla maggioranza dei consiglieri. Preoccupano i contagi e allora l'unica speranza di uscire da questa emergenza resta quella dei vaccini. La Toscana su questa ha un rendimento alterno, il lato debole è quello delle dosi per i più anziani. Quando si riunisce il Consiglio la prima volta, martedì 23 marzo, la polemica è già rovente. La nostra regione infatti si colloca agli ultimi posti in Italia per le vaccinazioni a chi ha superato gli 80 anni, risponde l'assessore alla sanità e annuncia una svolta che si concretizzerà con le 120.000 dosi in arrivo già entro Pasqua. I 340.000 anziani della nostra regione, insomma, conferma il giorno dopo Eugenio Gianni, il presidente della Giunta, potranno essere vaccinati con la prima dose tutti entro un mese, entro il 25 aprile. Al 24 marzo, gli anziani vaccinati erano 106.000, considerando anche le 12.000 persone nelle RSA. Gianni promette un supporto ai medici di famiglia, annuncia un calendario con date e numeri per tutte queste vaccinazioni. Io fugo tutte le polemiche. Dico che oggi gli over 80 che riceveranno il vaccino sono 13.356 dal loro medico di famiglia, perché io ho puntato sugli medici di famiglia, perché sono quelli che conoscono l'ultraottantenne, sanno come fargli a puntura, metterlo a proprio agio da un punto di vista psicologico. Certo, ci è voluto qualche giorno in più, ma il servizio che fa il medico di famiglia non è il servizio che fa l'operatore anonimo in un anno. Io penso anche all'aspetto psicologico per le persone oltre 80. Man mano che ci arrivano, noi li mettiamo in condizioni di essere somministrati. Entro il 25 aprile tutti gli anziani over 80 avranno avuto la loro prima vaccinazione. Ma l'opposizione, che comunque conferma la volontà di collaborare in ogni caso per la buona riuscita della campagna vaccinale, non risparmia le critiche che aumentano quando? Martedì sera. Ma in tilt il sistema di prenotazione per i più fragili. Ci sono persone che da tanto tempo aspettano, sono le persone che per prime devono essere vaccinate perché sono oggettivamente più vulnerabili delle altre, ma che con il sistema utilizzato ieri sera in realtà non si sono registrate e oltre ad essere estremamente fragili oggi sono anche estremamente arrabbiate e voglio dire giustamente. Dobbiamo vaccinare e lo dobbiamo fare il prima possibile per tutti coloro che vogliono immunizzarsi e soprattutto dobbiamo mettere in sicurezza i nostri cittadini. Con false speranze però non andiamo da nessuna parte e la Giunta fino ad oggi ha fornito false speranze a tutte quelle persone che hanno diritto prima di altre ad essere vaccinate. Nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale, ma oggi ci sono i numeri e i numeri dicono che la Regione Toscana è la penultima in Italia per vaccinazione degli over 80, che non riesce ad aprire il portale per vaccinare i settantenni e i fragili, che qualcuno addirittura riceve invece a casa la telefonata a 40 anni per andarsi a vaccinare forse perché è un personaggio famoso in televisione, perché gli hub vaccinali buttano via dosi di vaccino tutti i giorni o almeno le buttavano fino a una settimana fa e non c'è stato raccontato dagli alieni, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Passano poche ore e la Lega annuncia anche al nostro telegiornale una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Bezzini. Chiede anche che nasca una commissione speciale per monitorare la situazione e fare proposte valide per organizzare i vaccini per i più anziani. Tra i più attivi nel denunciare i ritardi c'è il capogruppo di Forza Italia che da giorni contesta la scelta delle priorità e l'organizzazione della campagna qui da noi, presentando una mozione con alcune richieste. La prima è vaccinazione 24 ore su 24. Oggi non possiamo più fermarci. Nel momento in cui arriveranno le dosi occorre vaccinare ed occorre farlo veloce 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiediamo anche che gli over 80 vengano vaccinati non solo nella maniera più rapida possibile, ma coloro che non possono spostarsi da casa lo facciano a casa, cioè deve essere la regione che va a vaccinare a casa. Chiediamo lo scudo che se fanno una dose vaccinale e purtroppo chi riceve il vaccino ha per svariati motivi uno shock anafilattico fino purtroppo al decesso, non vi debba essere nessuna responsabilità per chi ha somministrato quel vaccino, perché se no corriamo il rischio che non andrà più nessuno a vaccinare gli altri. Da mesi la Commissione Sanità analizza i dati del contagio e l'andamento delle vaccinazioni. Ecco il suo presidente che promette anche lui una svolta. Questa settimana sono in distribuzione in questi giorni i primi 46.000 vaccini, 70.000 arrivano la prossima settimana. Se tutto va bene come noi speriamo, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale che voglio ringraziare, si dovrebbe riuscire a, prima di Pasqua, riavere un livello importante di vaccinazione degli over 80. Quindi contiamo in questi giorni di avere risultati. Mercoledì alle 14 l'assessore Bezzini verrà in commissione a riferire sull'andamento del piano vaccinale e di tutte le modalità organizzative che stiamo seguendo. Alcune criticità tuttavia vengono rilevate anche da settori della maggioranza. Noi abbiamo chiesto di cambiare modalità organizzativa, abbiamo chiesto di migliorare l'organizzazione per quanto riguarda gli over 80. Siamo convinti che tante persone che hanno 80, 82 anni, 85, 87 possono tranquillamente recarsi negli ospedali. I vaccini Pfizer sono presenti in ospedale e poi dall'ospedale vengono portati nelle farmacie. Nelle farmacie deve arrivare il medico di famiglia che va in farmacia, prende il vaccino, lo sposta nel proprio ambulatorio, poi deve chiamare il paziente, il paziente deve aspettare la fila e poi andare in laboratorio. Noi abbiamo sei spostamenti di un vaccino, con un unico spostamento potremmo fare sei vaccini. Quindi bisogna semplificare. Bene, abbiamo accolto la disponibilità del Presidente avere la consapevolezza che forse qualcosa non sta andando nella direzione corretta. Serve un impiego differente delle USCA, si possono fare a domicilio, si possono fare negli ospedali, si possono fare negli hub, serve cambiare metro. Di questo ritardo siamo dispiaciuti, ma sono convinto che se le dosi effettivamente ci saranno, come le prime 50.000 sono già arrivate, sarà anche possibile recuperare il tempo perso. Non si può dire che ci siano disservizi dal punto di vista della capacità di erogazione, perché se andiamo a vedere siamo indietro per quanto riguarda gli over 80, ma per quanto riguarda le persone residenti in Toscana vaccinate siamo invece ai primi posti. Che le cose non vadano bene, non solo per i più anziani, lo pensa anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle che anzi aveva presentato una richiesta per una commissione di inchiesta del Consiglio regionale proprio sulla gestione di questa campagna di vaccino. C'è un problema strutturale e quello che è inaccettabile è la disonestà comunicativa con cui si continua a dire che la Toscana è prima e sta facendo un ottimo lavoro quando non è così. Di fronte alla frustrazione di migliaia di persone che non riescono a fare una prenotazione sarebbe invece auspicabile che la Regione comunicasse quelli che sono i problemi, quelli a lei imputabili e quelli che non sono imputabili, come per esempio la mancanza o i tagli delle forniture, e soprattutto che trovasse una soluzione. E questo può essere fatto all'interno di una commissione di inchiesta, un contenitore all'interno del quale mettere mozioni, interrogazioni, dove si possa fare un lavoro tra tutte le forze politiche per cercare di contribuire con la Giunta a questo. Il fatto che la Giunta non lo voglia è una chiusura inaccettabile, lo ripeto ancora, a fronte di quello che sta succedendo e non lo possiamo tollerare. Nasce la Scuola di Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini, la decisione risale ad un anno fa nel periodo finale della precedente legislatura, ma ora prova a compimento perché viene approvato lo statuto. Nei prossimi mesi potrà partire il progetto. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori Anter 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Lo faremo insieme a Danci, insieme a Dupi, cercheremo di mettere in piedi una scuola di formazione che oltre a fornire gli strumenti definisca anche le principali azioni valoriali che la nostra Regione vuole portare avanti. Sarà pronta dall'estate di quest'anno, noi speriamo di fare i primi corsi subito dopo l'estate in maniera tale da poter coinvolgere già i primi studenti nel 2021. Votano tutti sì tranne Forza Italia. Il suo capogruppo spiega le ragioni del voto contrario. È un'occasione per buttare via i soldi. Lo abbiamo detto in maniera molto chiara, siamo l'unica forza politica, Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300 mila euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali, nei consigli di quartiere, nei consigli regionali in Parlamento, la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì, votatelo. Se vi risponde di no, non lo dovete votare perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente, dalle tasche di un pensionato, si vengano prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici. La Lega aveva delle diffidenze al momento dell'approvazione della legge, ma ora si esprime a favore. Stessa linea per Fatale Italia dice, Diego Petrucci, ci sono grandi e piccoli comuni. In questi ultimi è molto probabile che donne e uomini sentano il bisogno di formazione. Ecco Casucci della Lega. Quella fretta non ci piacque, proprio perché rappresentava una forzatura di finale consigliatura che ovviamente non poteva trovare il nostro consenso. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centro-destra, con i consiglieri del centro-destra che stanno dando un importante contributo, ecco si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita, ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento, perché quando le cose esistono di fatto occorre cercare insieme di dare un buon funzionamento, quello che chiedono i toscani. E in 5 Stelle cosa ne pensano di questo progetto che ora appunto verrà definitivamente la luce? Può essere un'iniziativa interessante, ma attualmente è fuori contesto, stante l'emergenza che stiamo vivendo. E non parlo solo per i 300 mila euro che dovrebbero essere devoluti per il finanziamento, ma parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica. La scuola politica la fa ciascun partito, noi come movimento, nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino, avvicinarsi all'interesse di tutti, della collettività. Mi sembra un'iniziativa della Regione Toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte, sembra soltanto una delle tante iniziative della Regione Toscana, ma non ne trovo in questo momento né l'utilità e né soprattutto le fondamenta, le basi anche argomentative. L'AMMA, IRPET e ARTI sono enti e agenzie regionali di cui il Consiglio adesso approva i bilanci. Per il Consorzio L'AMMA arriva l'ok al bilancio consuntivo 2019, il ritardo deriva anche dalla situazione che viviamo in quest'ultimo anno. Per l'Agenzia dell'impiego ARTI ci sono sia il bilancio 2019 che quello di previsione del 2021. In prospettiva questa agenzia avrà un ruolo di primo piano nella fase della ripartenza. ARTI sarà fondamentale in quella fase che la Toscana attraverserà dopo che sarà tolto il blocco di licenziamenti. Nelle audizioni, nelle confronti che abbiamo avuto in commissione e ho sentito la dirigente che di questo è consapevole, sarà importante quindi mandare molte risorse per quanto riguarda il front office, perché ci troveremo davanti a un gran numero di domande di disoccupazione e sarà importante cercare il ricollocamento. Quindi diventa importante ricevere questa quantità di persone, provvedere anche a quello che è il reddito di cittadinanza e tutte le pratiche e attivarsi bene e lo stanno già facendo. ARTI si conferma una rete di centri per l'impiego che ha dimostrato negli anni di saper soddisfare l'incrocio della domanda e offerta con una risposta di soddisfazione che va circa sul 98%, raccogliendo le richieste di circa 18.200 imprese, un volume di circa 60 milioni. Abbiamo fatto una grande riflessione su ARTI perché la rete dei centri dell'impiego che conta 500 dipendenti più altri 250 che fanno capo alla rete degli ANPAL e quindi Navigator utilizzati anche in questo periodo per l'inserimento lavorativo è una grande rete che dovrà nei prossimi mesi e questo l'abbiamo detto anche in occasione del bilancio di previsione fare i conti con una situazione lavorativa ed economica della nostra regione che sta profondamente cambiando purtroppo. Via libera anche alla bilancio 2021 di IRPET che illustra nei suoi aspetti salienti il presidente della prima commissione. Questo è stato l'ultimo bilancio di previsione presentato dal direttore uscente, il dottor Casini Benvenuti, nel quale peraltro viene attestato il programma di attività per l'annualità 2021 e per il prossimo triennio. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della regione toscana ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la regione toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio in sintonia con quanto disposto dalla delibera della giunta regionale del 2019. Tra i banchi dell'opposizione si registra il voto contrario di Forza Italia mentre la Lega approva. Sì noi abbiamo votato a favore perché se qualcosa ha sbagliato IRPET è soprattutto per colpa della giunta regionale. Per esempio la giunta regionale ha presentato tardi il programma di attività e quindi il bilancio è stato concluso. Diciamo purtroppo non nei tempi però bisogna vedere nei numeri e oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio ecco che dove le voci di entrata di spesa ormai sono consolidate. Per quanto riguarda l'entrata è il contributo della regione. Per quanto riguarda l'uscita è il costo del personale che però occorre mettere in evidenza da 37 unità e passa da 35. Sulla base degli studi di IRPET noi stiamo lavorando per far sì che possano essere delle sollecitazioni. Sul finire della seduta c'è tensione tra PD e Italia Viva per la questione degli aeroporti. Non tanto sulle emozioni di Fratelli d'Italia e Lega integrate dal PD per la tutela dei lavoratori di Toscana Aeroporti Handling, la società in house di Toscana Aeroporti per la gestione dei servizi a terra, ventilando anche un'ipotesi di sospendere il finanziamento di 10 milioni deciso alcune settimane fa, quanto piuttosto su un atto presentato dal capogruppo di Forza Italia che chiedeva di proseguire nell'ammodernamento di Peretola, in particolare per la nuova pista. Italia Viva è d'accordo, il PD parla di strumentalità di questa mozione. Altro tema legato ai trasporti, quello del servizio di bus in Toscana, il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi gestori non c'è ancora stato, dice l'assessore Baccelli, rispondendo ad un'interrogazione del Movimento 5 Stelle, che entro il 15 aprile è previsto che le parti firmino un impegno formale a sottoscrivere testi contrattuali definiti, atti che poi sono condizionati all'esito del Consiglio di Stato del prossimo maggio, per procedere poi all'effettiva assegnazione del servizio. Queste sono le immagini dello sciopero dei lavoratori di tutta la filiera Amazon, il primo di questo tipo a carattere nazionale. Le abbiamo girate a Pisa in uno degli hub più importanti della multinazionale. Il Consiglio regionale adesso all'unanimità vota un atto presentato dal PD che impegna il Governo ad aprire il confronto per far sì che vengano tutelati il lavoro e la sicurezza di queste persone che lavorano in uno dei settori a più forte espansione in questo periodo. Ne riparleremo diffusamente venerdì prossimo e l'argomento sarà al centro anche di molte delle nostre trasmissioni. Ne aveva parlato in diretta qualche giorno fa il mio Consiglio e il Presidente Antonio Mazzeo. Oggi non c'è più un luogo azienda, l'azienda è la strada per queste persone e noi dobbiamo dargli diritti e garanzie. Come garantiamo la sicurezza del luogo del lavoro? Nemmeno l'ufficio c'è più perché il computer lo porti ovunque e si collega da dovunque. Ma è così e va cambiato e la politica non deve aver paura di cambiare questa roba qui, è il tempo di scrivere nuovi diritti. Ne parlavo proprio ieri con Jacopo Melio che saluto e che è tornato a lavorare insieme a noi e che mi sta dando tante idee molto interessanti l'ultima mi ha detto Antonio proprio su questi temi, su temi dei diritti, noi facciamo la festa della Toscana, è una celebrazione importante la nostra festa, perché non mettiamo in campo anche la possibilità di fare un pomeriggio di approfondimento sui diritti moderni, non torniamo e parliamo anche dell'impegno unanime dei consiglieri regionali a sostenere le nostre aree interne e tra queste certo quelle montane.